Sì, è che l'altri, fra i miei lezioni bisognava buttare bastoni, si dice che chi m'oprime di vecchia minata, la sacra arte briscola l'ha imparata. Come anche io gli occhi. Si sente che la voce non può restare. Proprio così non viene scattato, quando la mano l'ha scattato, qualcuno l'ha scattato e non si è toccato. E sicuramente altri hanno russini, che i quattri dal malignano non hanno spedito. Perché non mi è piaciuto mai. Ma... 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 ma si capiva Quante... una bruciata... a partire. Si sa... il monte le taronte. Ma spesso l'ereo malignano, preso al monte... e così più di qualche volta... la quarte vien... chiolte. Dopo tantiss... ma... ti dice... anche quant... no, aspetta... anche quant... Eh no, bevi? No, è così bene come va. Mh... Eh... che ho visto qua. Non do di più. Anche 40 chiates a zero finiti. Eh... questa è medica. Basta. Così, sopia, sopia. Però io sono bravo io. Alla fine vi capite... che... tu sei su un po'... invertì. Allora, aspetta. Questa che era il pregoso per capire. Stai tranquilla, sono leopardà, sono biegi. E chi si può dimmettere ovunque. Bevi, bevi. Ma perché bevi? Troppo, troppo. Anche il tuo matrimonio. Con la camicia... Tasha, anche se arriva così eccetera... Con queste scarpe. Una parrucca sì, mi piace.